C'è la cancionzina del Carnevale, seppur una volta all'anno noi se calemo fora, come che fossimo, ora tremasse ne fa avvinire. Ci siamo, tra poche ore la 65esima edizione del Carnevale di Muggia vivrà il suo momento clou con la sfilata dei carri allegorici che prenderà il via alle ore 13 di domani 11 febbraio. Il corteo mascherato delle otto compagnie del Carnevale con oltre 2000 figuranti percorrerà via Forti, via Danunzio, via Roma, Piazza della Repubblica, Largo Caduti della Libertà, via Battisti e Lido per concludersi quindi con la grande festa in piazza Marconi dove avverrà la premiazione delle compagnie partecipanti alla sfilata. A scendere in strada per primi saranno i Mandrioi con il tema Abbattono Muri e Frontiere, poi la compagnia Lampo con Gavemo Stofa a seguire le bellezze naturali con Green, Verde dalla Terra al Cielo e la Brivido con Baskers, Artisti de Strada. Ecco quindi la trottola con Velenosi seguita dalla compagnia Buli e Pupe con Chebal e Stobalon. Il gran finale sarà dato dalla Bora con Cocktails e dall'Onja con gli insetti. E nel Cappannone alle porte di Muggia dove sono stati allestiti i carri ancora in buona parte coperti da teli di protezione si lavora per terminare tutto in tempo. Io credo che come al solito perché di prassi questa notte saremo fini, finale tre, tre mezza, qualcuno starà finale quattro, gli ultimi ritocchi perché c'è sempre qualcosa da mettere a posto. I nostri ragazzi bisogna ricordare sono gente che lavora e alla sera sottraggono tempo alla famiglia per l'amore del Carnevale. Sono tutti bravi, meritano tutti degli applausi, meritano tutti di vincere e sono delle persone fantastiche. Anche questa edizione del Carnevale si pronuncia di grande impatto conclude Mario Vascotto con l'auspicio che la Bora non ci metta lo zampino così da offrire alle migliaia di spettatori tanto spettacolo e divertimento. Se la Bora è forte è molto difficile uscire ma comunque ce la faremo lo stesso. Venite a Mugia, venite con le famiglie perché qui è uno spettacolo per le famiglie.